Commento anche con Elena, Rolando, visto che abbiamo fatto in diretta, le tue compagnie, tu sei scappata, e allora, complimenti anche a te. Allora, grazie per i complimenti, è stata una partita dura, durissima, durissima, fatta così, si riede dal cuore della mia faccia, però è andata bene, è andata bene, avevamo bisogno di questo risultato per un aspetto morale, loro complimenti perché in difesa, complimenti. Beh, ma noi questa sera alla grandissima, brava, complimenti anche a te ancora per questa prestazione ottima, grazie, ciao Elena.